Ciao a tutti, annuncio iper super mega... velocissimo si apre il contest di novembre per vincere una lettura di tarocchi gratis su questo canale come potete fare? Scrivete nell'info box il nome di una carta dei tarocchi a scelta individuatela nell'info box dove c'è la lista, se è libera sceglietela, se è occupata sceglietene una libera se per sbaglio c'è una sovrapposizione di scelte perché io non riesco ad aggiornare in tempo la lista vi attribuirò io una carta, cioè qualsiasi errore facciato nell'iscrivervi cercherò di risolverlo io iscrivendovi comunque però a mia descrizione sceglierò la carta perché se vi inseguo non finiamo più né io né voi e la vita cerchiamo di snellire la burocrazia su youtube per cui questo è, quindi cosa dovete fare? Scrivetemi in questo video sotto questo video, dicendo esattamente che vi volete iscrivere e scegliendo una carta libera dall'info box entro 24 ore io vi iscriverò, come saprete che vi ho iscritto, vi accenderò un cuore e basta se non vi accendo un cuore e se entro 24 ore non vi risulta di essere stati iscritti è perché vi ho bannati perché in qualche modo mi avete infastedito nel canale e quindi non vi leggo perché vi ho eliminati cioè vi ho bloccati, vi ho bannati e non vi accendo il cuore perché non vi ho letto quindi non siete iscritti perché non siete iscritti ah, secondo annuncio importantissimo, ho aperto la pagina di facebook troverete anche questa nell'info box se volete aggiungervi o se volete consultarla per qualsivoglia ragione cercherò di starci un po' dietro e tutto però ho bisogno dei miei tempi il video sul narcisismo arriverà, spero mercoledì, dovrebbe assolutamente arrivare a mercoledì per il resto diamo avanti così però oddio il mio vicino ha fatto l'orolo di Tarzan definitivo già, non lo so cosa se c'è va bene e basta, ho detto questo, ho detto tutto sì, perfetto, meraviglioso, vi voglio bene mi avete scritto un sacco di commenti carini, tanti non carini ma tanto li banno quelli che mi scrivono cose brutte perché io ho deciso di scegliere solo nella vita persone che mi fanno complimenti credo che sia un'ottima cosa è tipo come quando fate la dieta però in questo caso mangiate solo quello che vi piace e quindi cerco di tenere la persona un po' nervosa oggi però questo non è un video smr quindi cercherò di ripristinare la calma presto sto pensando a una cosa carina da fare per fine anno per i miei iscritti che spero vi piaccia, ho già tutto in mente e cercherò anche la pagina facebook di utilizzare, di emanare un po' di positività per farlo è necessario che siamo tutti un po' positivi in questo canale per questo alla fine banno a raffica bene, comunque detto questo ho detto tutto ho aperto la pagina di facebook, ho aperto le iscrizioni sono aperte le iscrizioni per il contest per una settimana il 7 novembre le chiudo l'8 novembre avete il video col vincitore ah sì, non si capisce nulla l'8 novembre avrete il video col vincitore qui su questo canale massimo un giorno di ritardo tutti quelli che mi scrivono e se non vi rispondo soprattutto Vania c'è una cara ragazza che si chiama Vania a cui ti giuro che a tre giorni che ti voglio scrivere non trovo dieci minuti è che ti voglio dedicare tempo puro tempo sano tempo dove sono concentrata anche perché ti vorrei chiedere una cosa per cui ti scriverò aspettami pensami perché ti scriverò caso mai sentissi questo video e tutti quelli invece che non hanno risposto ho scritto in tempi molto veri di solito rispondo e scrivo a tutti sempre però magari c'è uno o due giorni di ritardo abbiate pazienza cioè veramente la vita è dura per tutti soprattutto per me faccio quella tipo sto facendo la vittima bene un bacio se volete iscrivervi al concorso scrivete qui sotto ciao alla prossima grazie a tutti